Carissimi amici di Ura Grigi, un saluto da Paolo Baratto e da Beatrice Bruno. Da questa settimana noi ci ritroveremo sull'Ura TV, la web TV di Ura Grigi, per commentare spettacolare, ci diventeremo così, e fare il punto della situazione sul cammino dell'Alessandria. Paolo, guarda, partiamo subito, ti faccio subito una domanda, così rimorziamo un attimo il primo momento. Brutta partita a Cuneo dal punto di vista della prestazione, anche un incidente abbastanza complicato dal punto di vista delle operazioni per l'Oviso, appunto si è scontrato con Ordi, è un'azione da rivedere perché secondo me c'è stato qualche passaggio e qualche movimento sbagliato, comunque volevo un tuo punto della situazione sulla partita in generale e comunque sulle partite successive, anche perché sabato ci aspetta la Cremonese, che è una formazione di tutto rispetto, che è avvenuto 2-0 in casa col Paglia, quindi dimmi tu come la vedi. Alessandria che dopo la prestazione di Cuneo, poi mi dirai se sei d'accordo con la mia analisi, io la definirei cinica e concreta, Alessandria che ha approfittato delle due palle gol che ha avuta, una nel primo tempo che ha saputo sfruttare il fissionale, poi Marconi ne ha avuta una verso la fine, ma non è andata a buon fine, Alessandria che fa ancora un po' fatica dal punto di vista del gioco, ma mi sembra che comunque domenica l'importante era venire via da Cuneo con i tre punti, dopo il passo passo contro la Feralpi e quello è stato fatto e quello è stato conquistato ed è quella forse la cosa principale, molte volte in alcune partite e in alcuni momenti della stagione non bisogna guardare al gioco, ma bisogna, come si suol dire, mettere pieno in cascina per l'inverno, passano il termine. Adesso arriva questa Cremonese che sicuramente non nasconde obiettivi da primi posti in classifica, tra l'altro la Cremonese che quest'anno ha cambiato l'allenatore, c'è Fulvio Pea, allenatore che ha adottato nelle due partite precedenti il 3-5-2, Cremonese che ha preso un ragazzo molto interessante dall'Inter che è una punta che si chiama Forte, che è arrivato quest'estate, ha un prestito biennale, avrà breghenti come suo compagno di reparte, Rosso a centro campo che ha fatto la Serie B, rivedremo anche Giacomo Gambaretti che ha giocato da noi qualche anno fa, non so se dal primo minuto o se partirà dalla panchina, poi lo vedremo nel corso in base a cosa deciderà Fulvio Pea, però comunque è una partita importante, Cremonese che ha 4 punti, che è un punto in più dall'Alessandria, adesso soltanto il sud Tirol è a punteggio pieno, ovviamente mancano ancora le partite del Pavia e della Propatria per tutta la confusione che c'è stata quest'estate, quindi vedremo sabato sera, ovviamente invitiamo chi non l'avesse ancora fatto a prendere il biglietto Novea e a essere numerosi e sostenere la squadra sabato sera. E' un obiettivo alla prevedita, quindi vi raccomando, comprate il biglietto in prevedita perché se no la coda alle 8 e un quarto fuori dallo stadio in botteghini è qualcosa di snervante e per di più si perdono i momenti più vari della partita che forse è entrata in campo dei giocatori, perlomeno, è quella che a me trasmette più adrenalina. Bravissima, è il momento più bello, è il momento più importante e appunto come hai detto tu Massimo Loviso si parlano di 10 giorni più o meno di stop. Di 10 giorni di stop certo, speriamo si riprenda in fretta anche perché lui ha davvero tanta voglia di dimostrare all'Alessandria, ad Alessandria e ad Alessandria in quanto noi tifosi la stoffa di cui vi è fatto perché effettivamente basta solo andare su Wikipedia, leggere giusto due nomi di squadra, due numeri e si capisce che questo è il giocatore che avrà sicuramente tanto da dimostrarci. Calcolando anche che forse è l'unico giocatore in rosa dei 23 che non ha un sostituto naturale come caratteristiche, quindi domenica, cioè sabato sera bisognerà vedere Giuseppe Scienza come imposterà il centro campo avendo appunto la mancanza di Massimo. Abbiamo dei giocatori molto utili che secondo me si dovrebbero sfruttare meglio tipo Vito Francesco, per me Vito Francesco è un giocatore che sa dire sempre la sua, un giocatore costante l'anno scorso è stato forse il giocatore più costante e meno contestato di tutti perché dove lo metti sta, fa la sua partita, gioca bene, gioca per la squadra, si impegna come tutti tra l'altro adesso non bisogna star qui a giudicare questa parte anche perché penso che a impegno tutti mettano del proprio, l'impegno di certo non si può mettere in dubbio, sicuramente la squadra sta affrontando un momento di difficoltà fisica, non so se è per i carri troppo pesanti anche tu sei central partito di quelli che pensano come forse anch'io che qualcuno rispetto a qualche di un altro sia un po' più indietro, magari per condizioni fisica, per un fisico che tende a entrare in forma dopo. Sicuramente giocatori come Marconi, Boccalon che effettivamente sono giocatori più pesanti, che hanno la gamba più pesante, sono giocatori che hanno bisogno di tempo, di allenamento, di costanza, di velocità e comunque di allenamenti sicuramente più mirati, perché comunque sono giocatori fondamentali, perché se non c'è la punta che c'è la punta dentro non si va da nessuna parte, però sono anche giocatori che a livello di struttura fisica sono più complicati da sistemare un attimo. Speriamo riescano a recuperare il loro 100% di forma presto, anche perché i punti che si fanno adesso è vero, li sfacciano come punti non importantissimi, ma insomma se si parte bene sicuramente si ha una marcia in più, anche perché tirando le somme alla fine del campionato ci saranno dei punti, e sono soprattutto questi, quelli che adesso magari contano poco, sono proprio questi punti che ti aiuteranno poi a fare un attimo la differenza e a cercare comunque di centrarlo. Sono quelli che poi pesano, sono quelli che sicuramente poi fanno la differenza. Anche perché tanta gente alla fine del campionato dice eh abbiamo perso un sacco di punti a metà anno, no non è a metà anno, è l'anno complessivo che si deve tenere conto, quindi effettivamente sono davvero importanti, non sono fondamentali, lo diventeranno a maggio, però bisogna cercare sempre di farlo tutto a pieno, soprattutto a Mocagata dopo l'esordio che è partito benissimo, è andato un po' più in salita, e insomma vabbè non ci pensiamo, guardiamo avanti, la Cremonese, 20 e 30, sabato sera, le discoteche sono chiuse, sono chiuse, i ristoranti possono viottirsi dopo, possono viottirsi dopo, e quindi tutti allo stadio. Tutti allo stadio sosteniamo i Grigi, da parte di Beatrice Bruno e Paolo Barà. Ura Grigi, ciao a tutti!